Salve ragazzi, come promesso vi avevo detto il del cambio del canale Oggi farò un video su Baldur's Gate, ma non tanto su Baldur's Gate 3 ma sulla storia di Baldur's Gate 3, su come è nato il gioco, come si è sviluppato e perché c'è tutta questa fiducia nei confronti di Larian Studios nei confronti del lavoro Allora, Baldur's Gate è un gioco che è uscito nel 1998 e fu il primo del suo genere Fu un gioco sviluppato da Bioware, che era il produttore, e Black Heisler, lo studio che l'ha sviluppato Perché fece molto successo? Il gioco era basato su advanced D&D, con i regolamenti ufficiali che in quel periodo comunque il gioco di ruolo aveva un grosso hype Adesso esistono tantissimi giochi di ruolo cartacei, ma anche in quel periodo sicuramente ce n'erano molti ma D&D aveva un grosso seguito E quindi la Guminity ha preso il fatto dell'uscita di un gioco di ruolo con il regolamento di D&D dove lo sviluppatore aveva promesso di cercare di riuscire a dare al videogiocatore il massimo della resa di quello che poteva essere un gioco di ruolo cartaceo Il gioco era un isometrico 2D, con un party, single player fondamentalmente Molto fatto bene, molto lento, con la nuova meccanica della barra spaziatrice che bloccava il gioco Sostanzialmente noi potevamo giocare in real time, quindi utilizzare le skill dei nostri personaggi che potevano essere magari del mago, cherigo, magari azioni del ladro, o barbaro, o guerriero che sia ma con la barra spaziatrice potevamo fare pausa in qualunque momento selezionare le azioni dei nostri personaggi, ripremere la barra e continuare il combattimento ripremela nel momento in cui magari dobbiamo prendere una pozione, eccetera, eccetera il tutto era scandito dai tempi dei turni di D&D quindi se D&D ti diceva che tu potevi fare due attacchi a turno il nostro personaggio faceva due attacchi a turno e tutto era regolato in maniera perfetta Baldur's Gate fece un successo clamoroso il gioco era dichiaratamente una piccola parte perché noi fondamentalmente eravamo in una zona, Baldur's Gate è una città eravamo in una zona sottostante e il nostro investigare sulle nostre origini ci portava poi a Baldur's Gate la città e nel momento in cui si arrivava a Baldur's Gate il gioco terminava il primo gioco ebbe anche un'espansione che si chiamava, adesso non mi viene, però aveva anche un'espansione eccola qua, Tales of the Sword Coast, eccola qui e il livello che potevamo raggiungere era molto basso è vero che poteva cambiare un livello se non sbaglio tra un personaggio e l'altro a seconda dei... perché in D&D il passaggio di livello non è tutti allo stesso punti esperienza è livellato a seconda dei vari personaggi se non sbaglio era al livello sesto o settimo circa il gioco ebbe un successo clamoroso una volta fatto il primo Baldur's Gate nel 2000, nel settembre del 2000 uscì Baldur's Gate 2, Shadows of Amn il gioco era praticamente quasi in solo incentrato a Baldur's Gate Baldur's Gate era divisa in diverse parti la mappa era divisa in diverse parti in realtà nel primo Baldur's Gate noi andavamo a uccidere il, diciamo, il nostro rivale che sembrava il rivale ultimo invece poi scopriamo che c'era diverso sotto diverse cose sotto e il gioco si sviluppava in una storia, diciamo, un po' più profonda in realtà il gioco non finiva con Baldur's Gate 2 doveva uscire un Baldur's Gate 3 ma poi per varie situazioni e qualche problemino non uscì mai un Baldur's Gate 3 però Blackheisler riuscì a fare Baldur's Gate, Throne of Val che era un'espansione di Baldur's Gate 2 dove praticamente il gioco andava a concludersi sostanzialmente è vero che l'idea di Throne of Val sembrava un po' una toppa però il gioco ebbe cioè, una degna conclusione Blackheisler poi non è famoso ovviamente solo per Baldur's Gate ma anche per i primi due fallout per l'incredibile Planescape Torment il problema poi quale fu? è che in quel tempo una volta che Bioware vide che comunque il gioco suscitava parecchio successo fece molti giochi uguali Planescape Torment Icewind Dale Baldur's Gate per l'appunto il Tempio del Male Elementale furono molti giochi tutti identici tutti con il regolamento di D&D tutti quanti nella stessa maniera è ovvio che far uscire 7-8 giochi nel giro di 4 anni uguali portò un po' diciamo alla noia al pubblico ovviamente poi non furono nemmeno gli unici fu uno stile di gioco poi preso anche da altri e quindi furono troppi giochi sullo stesso stile che portò a diciamo a un calo di di hype nei confronti di questo stile di gioco Icewind Dale per esempio fu un gioco basato sul sul powerplay quindi fondamentalmente erano molta meno storia molti più combattimenti Planescape Torment invece fu una super perla era tutta altra cosa era ambientato in un altro universo sempre di D&D ma basato moltissimo sulla storia addirittura è famoso il fatto che si poteva finire il gioco anche senza fare combattimenti e questo uscì praticamente tra Baldur's Gate 1 e 2 quindi Black Island in quel periodo lavorò tantissimo e Bioware ne diciamo cercò di sfruttare al massimo la situazione poi Bioware stessa decise di accantonare la saga Baldur's Gate e creare qualcosa di nuovo che fu Neverwinter Night Neverwinter Night ebbe tantissime espansioni sempre un gioco basato sul regolamento di D&D ma cercando di fare qualcosa di diverso con un motore grafico 3D anziché 2D sempre in isometria ma con la possibilità di girare al torno al personaggio fu comunque un bel gioco ma questo a noi ci interessa poco perché poi dobbiamo arrivare a Larian Studios chi sono i Larian Studios fondamentalmente hanno fatto due giochi che sono Divinity in realtà Divinity prima era un gioco diciamo diverso il primo Divinity era sempre sempre un action RPG io ho giocato personalmente i Divinity 2 Ecotragonis era un gioco molto particolare visto in terza persona action RPG ma più RPG molto ampio con molte cose da fare ma a un certo punto capirono che la strada doveva essere diversa e fecero l'Original Sin Divinity Original Sin nel 2014 che fu un gioco che praticamente basava tutto su quello che fu il vecchio diciamo stile di gioco la Baldur's Gate che nel frattempo ha visto altri successori tipo Pillars of Eternity per esempio ottimo gioco praticamente identico allo stile di Baldur's Gate ma cosa aveva Divinity? la prima cosa era un motore grafico 3D in cui potevamo switchare la visuale anche se fondamentalmente era più o meno fissa ma la cosa che aveva di diverso era che i combattimenti erano a turni ogni nostro personaggio aveva un tot di diciamo iniziativa durante il suo turno e questa iniziativa che erano rappresentate da diciamo delle palline tra virgolette veniva consumata da quello che potevamo fare camminare sparare non so magari effettuare una magia o un attacco quindi tutto quello che noi facevamo vedevamo in tempo reale quanto consumava di quello che potevamo fare nel nostro personaggio ogni personaggio aveva la sua iniziativa e quindi si faceva a turno ogni faceva diciamo che la lista del turno era vista sotto e piano piano tutti i personaggi facevano il loro turno oltre a questo il gioco aveva portato delle novità interessanti che era che tutto quello che noi vedevamo nell'ambiente era come dire faceva parte del combattimento quindi se pioveva e c'erano delle pozzanghere o se noi facevamo piovere perché c'erano le abilità magari e c'erano delle pozzanghere i fulmini stunnavano se c'erano delle se sparavamo una freccia di veleno e dietro alla freccia di veleno una palla di fuoco il veleno infiammava e faceva danno ulteriore ovviamente c'era anche danno amico quindi dovevamo stare molto attenti i combattimenti erano molto molto tattici molto tecnici e il livello di difficoltà del gioco era molto alto e molti combattimenti andavano fatti più volte addirittura è famoso perché divinity entrambi i giochi il boss finale era di una difficoltà assurda quindi finire il gioco era una vera e propria impresa il secondo divinity ampliava il primo quindi è migliorata la grafica sono migliorate le ambientazioni che erano tutte zone in cui noi noi facevamo delle zone e andavamo avanti quindi tutte zone un po' più grandi più complesse il gioco era rimasto più o meno simile ma ha venuto molto sul credito diciamo del primo il gioco fece grosso successo nel momento in cui l'Arian Studios hanno acquisito i diritti per fare Baldur's Gate 3 ed è uscita una prima demo se non sbaglio se non sbaglio due anni fa o forse anche tre nel momento in cui è uscito l'early access hanno venduto talmente tanto credo tre anni fa talmente tanto che hanno deciso di rivoluzionare il progetto e rifarlo praticamente da zero perché i fondi per il nuovo gioco erano le vendite del gioco dell'early access da quello che so dovrebbe avere ancora il record di vendite per un early access su steam ma molto probabilmente quando uscirà sarà uno dei giochi più venduti della storia di steam insieme a cyberpunk credo che più o meno saremo su quel livello lì quindi è per questo motivo che Baldur's Gate 3 ha sinute grossissime speranze sul gioco sono quasi sicuro che il gioco sarà un capolavoro perché i larian difficilmente sbaglieranno e perché si sono presi il loro tempo ma il gioco lo analizzeremo credo dopo domani domani forse vedendo magari un video gameplay analizzando il video gameplay insieme per poi tuffarci nel gioco e cercherò di fare qualche guida o magari sul gioco su qualche classe anche perché è un gioco party quindi avremo più personaggi sperando che vi piacciano questi video e che il gioco sia diciamo all'altezza delle aspettative vi ringrazio per la visione ci vediamo credo domani